Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un lebroso, si prostrò davanti a lui e disse, Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo, Lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebra fu guarita. Poi Gesù gli disse, Guardati bene dal dirlo a qualcuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Ecco l'incontro di Gesù con il malato di lebra. Il lebroso nella Bibbia è il malato per antonomase. Questa malattia terribile colpisce i principi vitali e relazionali dell'uomo. La relazione con il corpo, per lo strassi e il dolore della carne lacerata. La relazione con gli altri, per l'impossibilità da accostarsi bene al contagio. La relazione con se stessi, per l'isolamento psicologico a cui si è costretti. La relazione con la religione, perché il lebroso è ritenuto un maledetto da Dio. Guardando il lebroso del Vangelo non possiamo non identificarlo con l'orante del Salmo 38 che così prega. Putride e fetide sono le mie piaghe a causa della mia stoltezza. Sono curve accasciato, triste mi aggiro tutto il giorno. Sono torturati i miei fianchi, in me non c'è nulla di sano. Ma alla fine c'è sempre una linea di luce. C'è sempre nel credente l'idea che Dio non ti abbandona. Così cita il Salmo 6. Il Signore ascolta la mia supplica. Il Signore accoglie la mia preghiera. Ed è su questa linea di luce che non appartiene a nessuna delle relazioni di cui sopra, o meglio le supera tutte, che entra la grazia di Dio. Non il Dio dei precetti e della teologia, ma il Dio di Gesù Cristo che si china sul dolore degli uomini e tocca le loro ferite, sanandole alla radice. L'incontro tra le brose Gesù è in definitiva l'incontro tra l'orante dei Salmi e il Dio della sua vita, tra l'uomo mendicante di amore e Dio fonte di ogni amore, tra l'umanità ferita e il Medico Celeste. Grazie. 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 Grazie.